Massimiliano Berardini, innanzitutto ti voglio fare i complimenti perché non diciamo l'età, però ancora ti diverti, lo fai nel modo giusto, l'hai fatta la grande quest'anno. Peccato per come si è conclusa la stagione perché penso che forse non eravate la squadra meglio attrezzata, ma eravate quella che lo meritava di più perché siete stati sempre lì con il baranello e poi siete praticamente andati a 20 minuti dalla promozione in eccellenza. Immagino che non è stata facile poi metabolizzare questa sconfitta. Sì, parto dal fatto dell'età che si può dire tranquillamente, figurati, non è un problema. Diciamo che siamo anzianotti, però ci difendiamo bene. Io dico sempre questa frase come motto per affrontare ogni anno il campionato. Ritornando al calcio giocato, sì, è stata un'annata sicuramente strepitosa per noi. Hai detto bene tu, non eravamo quelli più accreditati per vincere il campionato, però eravamo consapevoli della nostra forza di poter fare soprattutto i play-off e alla fine quel traguardo è stato raggiunto. C'è il rammarico e la delusione perché veramente fino a quattro giornate alla fine per parecchie giornate abbiamo comandato la classifica e quindi abbiamo assaporato veramente da vicino questa vittoria del campionato di promozione. Però è andata così, siamo contenti di averla giocata alla pari con il Montenero in finale. Io lascio stare quella con l'Isernia perché giustamente è venuta in una settimana successiva dove mentalmente eravamo un po' scarichi e comunque eravamo decimati da qualche infortunio e quindi va bene così, siamo contenti appunto di aver fatto secondi a pari punti con altre due squadre, per cui nulla da dire. Assolutamente, insomma siete riusciti, siete stati bravi a creare quel giusto mix insomma tra ragazzi più giovani e persone, insomma giocatori di esperienze come te insomma Stefano Zurlo, Manuele Di Chiro, poi insomma Mr. Viglione sappiamo che è bravissimo a creare gruppo, a portare idee quindi è stata davvero un'annata importante anche per la crescita dei ragazzi di Baranello che hanno completato la rosa. Sì, questo penso sia il risultato ancora più soddisfacente quello appunto di aver potuto dare, noi almeno più anziani io, Stefano e Manuele, insomma i ragazzi, aver potuto dare qualche cosa in più qualche consiglio appunto per loro, per la loro carriera ancora giovane quindi siamo contenti di questo, si è creata la giusta amalgama sin dall'inizio e quindi questo ci ha dato sempre più compattezza e sicurezza nei mezzi il mister è stato l'artefice insomma di questa grande cavalcata di questa annata e va dato un applauso a lui sicuramente e alla società che comunque è sempre stata presente anche negli allenamenti per cui l'ambiente è sano e penso che da qui si possa ripartire insomma dal perno dei ragazzi appunto che ci sono stati l'anno scorso e magari qualche anziano di noi che possa ancora dare il suo contributo Scherzavamo a microfoni spendi, ho detto Fede quest'anno faccio l'addio al calcio sappiamo entrambi che insomma che non è così perché ti vedo da come parli sei ancora stimolato, hai voglia di metterti, di confrontarsi insomma anche con il campionato con ragazzi più giovani e dare il tuo contributo sicuramente non hai ancora delineato quello che sarà il futuro sicuramente la priorità va a Baranello dove sei stato negli ultimi due anni sei stato bene, hai trovato un gruppo fantastico, persone che ti hanno voluto bene un paese che ha seguito anche la squadra quest'anno insomma le partite in casa avete fatto sempre un ottimo pubblico Sì, io scherzo, cioè nel senso ogni volta che dico questa cosa anche per strada che insomma questo era l'ultimo anno mio personale e nessuno ci crede io sinceramente ancora non lo so, è presto per decidere avevo insomma optato per smettere insomma per finirla insomma come calciatore è presto non ti so dire perché la passione poi dentro arde ancora e non a caso appunto negli ultimissimi anni mi ha permesso quella di continuare a sbattermi su quel rettangolo verde ad ora ti dico sicuramente ci sono situazioni che mi complicano un po' il proseguo della carriera da calciatore nel senso che ho degli impegni lavorativi che purtroppo mi costringeranno ad essere meno presente su un campo di gioco però dobbiamo valutare attentamente tutte queste cose e sicuramente dovrò parlare con il Baranello perché la priorità aspetta loro In chiusura una considerazione a memoria non ricordo un campionato di promozione così bello, così equilibrato siete arrivati praticamente tre squadre a pari punti ex equo o secondi in classifica siete dovuti ricorrere alla classifica a Vulsa per stabilire chi andasse a fare lo spareggio e poi la squadra che vi aspettasse già in finale playoff davvero un livello regionale che sta tornando forse ai tempi dove hai iniziato tu con il Boiano con il campo basso e anche a livello di eccellenza e promozione si torna a vedere qualcosa di più da un punto di vista qualitativo Sì, hai detto bene tu non mi ricordo appunto di una promozione così combattuta e così livellata verso l'alto perché le stesse squadre che poi sono uscite fuori dai playoff comunque hanno fatto un campionato di alto livello e sotto c'è stata comunque bagarre fino all'ultimo per cui penso che appunto si siano diventati in questi ultimi anni sia la promozione forse anche più la promozione che l'eccellenza campionati a vincendi per cui vuol dire che c'è affiatamento soprattutto da parte delle società e soprattutto c'è voglia anche da parte delle tifoserie insomma dei paesi di dire la propria ogni domenica sui campi di gioco regionale insomma dei paesi di gioco regionale